Un progetto di alternanza scuola-lavoro per l'Istituto di Istruzione Superiore Alfonso Gatto di Agropoli. Si tratta della richiesta presentata da parte del dirigente del medesimo istituto, con l'intento di dare impulso allo sviluppo di competenze tecnico-professionali utilizzabili nei settori agricoltura e turismo. La medesima convenzione prevede, tra l'altro, la nomina di un tutor formativo, individuato in questo caso nella persona di Enrico Nicoletta, istruttore amministrativo categoria D, addetto all'Ufficio di Promozione Turistica e Cultura del Comune di Castellabate. L'alternanza scuola-lavoro dà l'opportunità ai giovani studenti di acquisire, oltre alle conoscenze di base, specifiche competenze spendibili nel mercato del lavoro. Si tratta di un progetto applicato sia nell'ambito dei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, che negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva nel secondo biegno e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore. Il tutto viene poi valutato sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni da stipolare anche con gli enti pubblici, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. Pertanto l'alternanza scuola-lavoro permette di collegare sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica, di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi e le vocazioni personali, nonché di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.